Da oltre due anni sollecito l'amministrazione comunale ad intervenire in maniera costruttiva sul miglioramento della gestione dei cani di proprietà comunale. Infatti la gran parte dei cani affidati alla proprietà e alle cure dell'amministrazione sono stati trasferiti fuori comune all'interno di un canile privato a pagamento nel comune di Castellalto a causa della limitata capienza del canile municipale di Carapollo ma nel frattempo i lavori di adeguamento e miglioramento del canile che dovrebbero essere fatti non sono stati svolti e l'attuale servizio appaltato è scaduto. A mio avviso ricorrere a un progetto di finanza rappresenta un concreto miglioramento gestionale sia sotto l'aspetto dell'adeguamento del canile Carapollo e conseguentemente ampliando la capacità sia sotto l'aspetto della riduzione dei costi di gestione senza tralasciare un'adeguata campagna per favorire le adozioni. A questo punto aspichiamo e torniamo a ribadire affinché l'amministrazione sia sollecita affinché decida di risolvere definitivamente le problematiche riducendo gli esorbitanti costi di gestione, migliorando la qualità di vita dei cani auspicabilmente ad avviare il prima possibile ad una campagna di adozioni presso le famiglie. Grazie. Grazie. Grazie.